domani si rigioca quindi oggi è già vigilia di una nuova partita di campionato il milan sarà impegnato a cagliari alle 18 e 30 domani pomeriggio oggi non ci sarà la conferenza stampa di pioli perché con impegni ravvicinati si vuole sfruttare al meglio le il poco tempo che c'è per preparare le partite ieri in gruppo si sono nati sia magnan che ternandez allora io penso che se proprio ovviamente lo staff medico ne sa più di me tutti noi di se magnan non è al cento per cento inutile rischiarlo per la trasferta di cagliari vado a rientrare tranquillamente sabato con la lazio così riacquista minutaggio per la trasferta di tormund in centro settimana prossima ternandez dovrebbe tranquillamente giocare domani non importa mi affidere ancora sportiello che ha dimostrato di essere all'altezza per sostituire il portiere rossonero francese magnan e quindi a questo punto io non rischierei poi ovviamente lo staff medico ne sa più di di me di tutti noi la formazione domani tornerà dovrebbe tornare a quattro in difesa quindi con florenzi ciao tomori e teo ernandez a centrocampo reinders lov sucic musa ovviamente centrocampo di forza di cosa dovrebbe essere a forza questo visto l'infortunio di kunic e davanti pulisic leao e okafor io vi ci dovrebbe entrare probabilmente a partita in corso giro riposa e quindi la formazione salvo sorprese dovrebbe essere questa quindi domani 18 30 cagliari milan per la sesta giornata di sera